Nome Maurizio Sabrina Cognome Di Bartolomeo Costanzo Moretti Professione Legal Director e Corporate Secretary Signor Attorni Director Head of Legal Italy Azienda Giochi preziosi Luxottica Ebay Cosa è ACC? La più grande associazione di legali d'azienda del mondo La più grande associazione di giuristi d'impresa al mondo La più grande comunità di giuristi d'impresa Che ruolo ha all'interno dell'associazione? Sono Country Representative per l'Italia Country Representative per l'Italia Country Representative dal 2016 Chi è il General Counsel? Un manager Un grande supporto strategico del business E' il miglior amico del General Manager Tre ragioni per cui alle aziende è utile avere un legale interno Garantisce una buona gestione del rischio Una migliore efficienza dei costi legali E fornisce uno strumento alternativo per nuove soluzioni Fornire consulenza specifica Aiutare nelle scelte di business Tenere dritta la barra del timone quando c'è mare grosso Beh direi per valutare è gestire il rischio con rapidità, efficienza e profondità La cosa più difficile del lavoro delegale d'azienda Guadagnare la fiducia del management Spiegare di essere la soluzione e non il problema L'estrema versatilità Quella più facile Riuscire a stupire Divertirsi col proprio lavoro Andare a pranzo con il General Manager Tre aggettivi per descrivere la relazione tra il giurista d'impresa e il management Ti do tre sostantivi La fiducia nelle proprie competenze Il rispetto del proprio ruolo Una ottima comunicazione Fiduciaria, empatica, generosa E' una relazione fiduciaria, sinergica, simbiotica La cosa più difficile di questa relazione Navigare attraverso i cambiamenti di gestione Acquisire tutte le informazioni La fase della costruzione della fiducia La più facile Avere l'opportunità di imparare La condivisione degli obiettivi d'impresa Integrarsi nel gruppo di lavoro Tre aggettivi per quella tra il giurista d'impresa e i consulenti legali esterni Direi di nuovo fiduciaria, sinergica, simbiotica Selezionatissimi, efficienti, sinergici Ho tre sostantivi Fiducia, conoscenza, disponibilità La cosa più difficile di questa relazione Mantenere tutti un grande senso pratico Avere lo stesso background e far convergere prospettive differenti Mantenere un approccio commerciale La più facile Dire grazie quando il lavoro è fatto bene Parlare la stessa lingua Lamentarsi per le aspettative tradite La professione dei giuristi d'impresa è cambiata nel tempo? Certamente Assolutamente sì Sì, tantissimo Come e perché? È diventata sempre più veloce E noi dei manager Da specialisti legali siamo diventati manager E ora, sempre più spesso, project leader È cambiato il ruolo dell'avvocato all'interno dell'azienda Sono cambiate le opportunità commerciali Cambierà ancora nei prossimi anni? Sì, penso ancora di più Sicuramente sì Assolutamente sì Come? Dovremmo essere ancora più veloci Dovremmo fare di più Con meno risorse E strumenti sempre più sofisticati In continua evoluzione Il ruolo cambia con il cambiare del mercato Pertanto è necessario che anche gli avvocati Siano al passo col cambio dei tempi Le nuove tecnologie avranno un impatto sulla professione? Sì Sicuramente Sì, e temo non sia ancora chiaro a tutti quanto Quale? Sono una grande occasione di innovazione e di efficienza Più le macchine diventeranno veloci Più dovranno essere profonde le nostre riflessioni Le nuove tecnologie ci sfidano a essere più bravi in ciò che facciamo Qual è la preoccupazione più grande dei legali d'azienda oggi? Direi dimostrare di essere Superman e indossare gli occhiali da Clark Kent Riuscire a parlare e a comunicare in maniera efficace con il proprio business Anticipare i cambiamenti del mercato La professione dei giuristi d'impresa è giustamente riconosciuta in Italia? Non proprio Non abbastanza Non abbastanza Cosa manca? Il riconoscimento che abbiamo la stessa dignità dei grandi avvocati d'affari Consapevolezza, spirito di squadra Manca il riconoscimento del ruolo del giurista d'impresa come tale Cosa si potrebbe fare? Guadagnare migliore visibilità e iscriversi all'ICC Grazie 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 Grazie